Anche quest'anno torna il concerto di Natale, il concerto di Capodanno organizzato dall'Associazione Corale Verdi in collaborazione con l'Istituto Musicale Braga di Teramo. Siamo arrivati alla ventiquattresima edizione. Esattamente, il Natale oltre ai valori della tradizione e oltre ai valori cristiani, cattolici, è la festa della tradizione. Non poteva mancare il tradizionale concerto di Natale che, come lei diceva, ormai ha un quarto di secolo. Esattamente siamo alla ventiquattresima edizione. Quest'anno, per la prima volta, l'evento è entrato nel cartellone unico della Fondazione Tercas che ha visto organizzare questo evento, la Corale Verdi, insieme all'Istituto Musicale Braga. Il concerto di Natale, in modo particolare, si terrà da parte della Corale Verdi a Datri il giorno 22 e a Teramo il giorno 23, esattamente in cattedrale tutte e due le manifestazioni. Quest'anno siamo tornati sull'argomento classico scoprendo e portando a Teramo una messa dell'età giovanile, direi fanciullesca, di Mozart, la messa in CK66. Naturalmente ci avvaliamo in questa esecuzione della esperienza e della collaborazione dell'orchestra Benedetto Marcello. L'appuntamento poi è per il concerto di Capodanno. Sì, il concerto di Capodanno, invece, è quello organizzato in collaborazione con il Braga e si terrà a Nereto dalla sola orchestra del Braga, orchestra dei fiati del Braga, l'ensemble. Invece a Teramo con la collaborazione del coro e invece ad Atri, siccome già c'era una manifestazione proprio del concerto di Natale, il Coro Verdi replicherà la messa in CK di Mozart. Il concerto di Capodanno si terrà al Parco della Scienza a Teramo il 30 dicembre alle ore 18.